Allora, mi hanno trattato come un figlio, un fratello. Mi parlavano con gli occhi, erano commosse, piangeremo, e col cuore, e mi hanno vestito perché mi hanno comprato i vestiti, mi compravano da mangiare, per farmi sentire meno la nostalgia e la solitudine. Comunque posso dire grazie alla Germania, che è una seconda mamma, quella putativa, che mi ha ridato la vita. Se non andavo in Germania ero morto. Deutschland ha mi riuscito a tornare un riuscito, e se non andavo in Germania, sarebbero non più in Germania. La storia è una storia, è un'ottima storia.